Oggi trattiamo il caso non di una ma di ben due persone scomparse. Una coppia che scompare improvvisamente nel nulla dopo essere stata in un locale. Ma ripercorriamo insieme l'intera vicenda iniziando con il conoscere i personaggi di questa storia. Ci troviamo a Filadelfia, Stati Uniti. Richard Petrone era quel 29 agosto del 1969 da suo padre Richard Petrone Senior e da sua madre Alisa. Richard viene descritto come una persona molto compassionevole e molto attaccato alla famiglia. Dopo un matrimonio finito male andò a vivere a Filadelfia insieme a sua figlia Angela, quando la bambina aveva allora soltanto tre anni. Richard all'epoca di fatti lavorava presso la panetteria di famiglia. Amava la musica rock ed era fan dei Chicago Beers. Era una persona tranquilla Richard, una di quelle che quando finisce di lavorare preferisce stare a casa a rilassarsi invece di uscire magari con gli amici. La seconda protagonista invece di questa vicenda è Daniel October, figlio di John October e di Margaret. Il padre John negli anni 50 divenne un cantante molto famoso e fece parte anche di un gruppo chiamato The Wop e proprio da lui Daniel ereditò la passione per la musica. Si divertiva ad assistere ai concerti, non soltanto quelli di suo padre. Inoltre era una appassionata di libri gialli e gli amici la descrivono come una ragazza buona e gentile con tutti. Daniel dopo essersi sposata con suo marito Joy andò a vivere a Montlore, nel New Jersey. Ma anche per lei il matrimonio durò poco e dopo la separazione si trasferì con suo figlio Joy Junior di soli 18 mesi a Philadelphia. Ma come queste due persone si ritrovano a scomparire nel nulla insieme? I loro destini si intrecciano molti anni prima quando tutti e due erano adolescenti, erano buoni amici e anche le famiglie di Daniel e Richard si conoscevano molto bene. Si persero di vista e ognuno di loro ha intrapreso delle strade diverse. Richard si sposò e rimase a vivere a Philadelphia, mentre Daniel andò a vivere con suo marito Joy a Montlore, nel New Jersey. Ma dopo la separazione Daniel riallacciò i rapporti con una vecchia amica, la sorella di Richard. Anche lei era in procinto di separarsi dal marito e quindi le due donne organizzarono un'uscita insieme. A quell'uscita partecipò anche Richard. Si rincontrarono quindi diversi anni dopo e dopo varie conversazioni, dopo essere usciti anche insieme da soli, decisero di frequentarsi. Daniel dopo la separazione non aveva passato un bellissimo momento e avendo suo figlio piccolo, Joy Junior, di soli 18 mesi, lavorava da casa presso una ditta che erogava mutui. Richard l'era stato vicino, la invogliava a uscire anche se lei era diventata molto casalinga. Suo marito Joy l'aveva lasciata così, da un giorno all'altro, senza un vero motivo. A Daniel la compagnia di Richard sembrava farle bene. Anche se all'inizio del 2005 Daniel chiede una piccola pausa a Richard. Voleva passare un po' di tempo da sola e Richard accettò questa richiesta. Ma dopo un breve periodo di lontananza si riavvicinarono ancora di più. Daniel spiegò a Richard che c'era ancora l'ombra dell'ex marito Joy nella sua vita. Il marito infatti si era fatto vivo con Daniel perché voleva una seconda possibilità. Anche se Daniel provava ancora qualche sentimento, per Joy decise che la soluzione migliore era il divorzio. Arriviamo al 19 febbraio 2005, quando Richard quella sera chiese a sua sorella se voleva andare con lui ad ascoltare della musica dal vivo in un bar. La sorella di Richard però rifiutò l'invito, aveva già un altro impegno. Però chiese a Daniel che in quel momento si trovava a casa sua se per caso voleva andare lei con Richard. Daniel accettò subito, non aveva impegni e inoltre il bambino Joy Junior si trovava con l'ex marito Joy fuori città. Quella sera Richard passò a prendere Daniel con la sua auto, una Dodge Dakota nera del 2001 e insieme andarono in un bar chiamato Abilene che si trovava in South Street a Philadelphia. Arrivati lì incontrarono anche un'altra coppia di loro amici Anthony e Michelle. La serata stava proseguendo nei migliori dei modi e si stavano divertendo, ascoltando musica, stavano conversando. Insomma quelle classiche serate che si passano insieme agli amici. Verso le 23.45 tutti i quattro uscirono dal bar. Anthony e Michelle volevano proseguire ancora la serata in un altro bar e chiesero a Richard e Daniel se volevano unirsi a loro. Loro risposero che si era fatto tardi e che l'indomani dovevano svegliarsi presto. E inoltre aggiunse Richard che avrebbe dovuto accompagnare Daniel a casa sua, a Montloren, prima di tornare di nuovo a Philadelphia e il tragitto contava all'incirca 40 chilometri. A questo punto le due coppie si separarono. Anthony e Michelle andarono in un altro locale mentre Richard e Daniel tornarono a casa. Il giorno seguente la giornata iniziò tranquillamente per le famiglie di Richard e Daniel, fino a quando però non si accorsero che la coppia non aveva più dato notizie. Si accorsero ben presto che Richard quella mattina non aveva aperto la panetteria di famiglia. Mentre Daniel quella mattina non si presentò a un appuntamento dal parrucchiere, cosa molto insolita. Entrambe le famiglie della coppia iniziarono a modo loro a cercarli. Iniziarono a contattarli sui cellulari ma i telefonini risultavano spenti. La vicenda comincia ad assumere dei contorni anomali quando quel pomeriggio alle 3 e un quarto Joy dovette riportare Joy Junior a Daniel. Quando bussò alla porta non ricevette nessuna risposta ed era molto strano perché Daniel non avrebbe mai salutato un appuntamento così importante. L'ex marito doveva riportarle quel pomeriggio il figlio. A questo punto la famiglia di Daniel e la famiglia di Richard si misero in contatto. Iniziarono a cercarli, a cercare di mettersi in contatto con la coppia fino a che non decisero di recarsi dalle autorità. Essendo più che adulti e vaccinati le autorità non iniziarono immediatamente le ricerche. Dissero alle famiglie di non preoccuparsi che magari erano andati fuori città o comunque volevano stare un po' da soli. Ma mettiamo caso che questa teoria fosse plausibile. Come mai spegnere i cellulari? Le autorità dissero di aspettare almeno 48 ore per iniziare le indagini e le ricerche ma la famiglia non volle aspettare e iniziarono così a cercarli loro personalmente. La sorella di Richard aveva riferito che quella sera suo fratello aveva un appuntamento con Daniel in un bar che si trovava sulla South Street a Philadelphia. Le ricerche da parte delle famiglie iniziarono proprio da lì ma nessuno sembrava aver notato nulla di strano. Stamparono inoltre diversi volantini con la foto di Richard e Daniel e li distribuirono ai passanti della zona. Mentre il fratello di Daniel e il padre di Richard cercarono la coppia quel giorno per ben 13 ore ripercorrendo la strada e le piccole vie adiacenti al locale ma non trovando assolutamente nulla. Ma non soltanto di Richard e Daniel ma non trovarono nulla neanche della macchina. I telefonini risultavano spenti e loro due erano molto attaccati alle proprie famiglie. Controllarono vicino i corsi d'acqua e anche i cavalcavia ponti che da Philadelphia conducono a New Jersey. Il giorno dopo le ricerche proseguirono e insieme alla famiglia si unirono anche gli amici della coppia. Stamparono altri volantini questa volta anche con il numero della targa della macchina di Richard. Gli distribuirono specialmente nella zona dell'Abelin sulla South Street. Su uno sembrò aver visto la coppia e ne tanto meno la macchina. Passarono due giorni e le famiglie di Richard e Daniel decisero di recarsi nuovamente dalle autorità questa volta per denunciare formalmente la scomparsa. Era chiaro ormai che non fossero scappati volontariamente ma che sicuramente c'era sotto qualcosa. Le autorità iniziarono così le ricerche non soltanto le autorità di Philadelphia ma anche le autorità del New Jersey. Sì perché Richard e Daniel sono scomparsi in quei 40 chilometri che Richard avrebbe dovuto percorrere per riportare a casa Daniel. Sono sentiti amici e conoscenti e in particolar modo la coppia di amici che era presente con loro al bar quella sera. Anthony e Michelle. In particolare Anthony riferì alle autorità che quella sera al locale sembrò tutto tranquillo. Avevano conversato, avevano ascoltato della buona musica, ridevano, scherzavano. Una serata normale insomma. Di essere usciti dal locale attorno a mezzanotte meno un quarto, di essersi salutati e poi di non aver più saputo nulla. Però aggiunse un particolare. Anthony si ricordò di una frase che aveva letto Richard quella sera. Gli aveva detto che era stato fortunato, aveva trovato parcheggio proprio vicino all'Abelin. Le autorità a questo punto dedussero che Richard e Daniel una volta usciti dal locale non avrebbero dovuto percorrere tantissimi metri per raggiungere la macchina visto che era parcheggiata praticamente vicino. Le autorità decisero quindi di iniziare le proprie ricerche proprio da lì, dall'Abelin, situato nella South Street. Una via molto trafficata e oltretutto piena di turisti e di telecamere che però stranamente quella sera non avrebbero ripreso la coppia. A parte i dipendenti del locale e la coppia di amici presenti quella sera non c'erano altri testimoni. Le autorità controllarono anche i tabulati dei cellulari di Richard e Daniel. Ma a parte risultare spenti i due telefoni non risultava nulla di strano. Controllarono inoltre anche i conti correnti della coppia e videro che non c'era nessun movimento. Questo li insospetti molto non soltanto all'autorità ma anche alla famiglia che aveva già percepito che c'era qualcosa di strano. La polizia a questo punto decise di interrogare proprio la coppia che era presente con Richard e Daniel quella sera al bar. In particolare Anthony. Gli posero diverse domande. Ad esempio se avesse visto qualcosa di strano quella sera, se aveva visto qualcuno che era in qualche modo particolarmente interessato alla coppia o se lui sapeva qualcosa della loro scomparsa. lui ribadiva sempre il fatto di non sapere assolutamente nulla e che la serata trascorsa con i due amici era stata tranquilla. Indagarono anche sul passato di Anthony per verificare se in qualche modo il vero obiettivo poteva essere proprio lui. Ma non emerse nulla di strano come non emerse nulla di strano neanche nel passato di Richard e Daniel. Ma allora come è possibile che una coppia sparisca insieme al proprio pick up nel nulla. Tra i tanti amici e parenti sentiti dalle autorità venne sentito anche l'ex marito di Daniel, Joy. Lui ribadì il fatto che quella sera si trovava fuori città a un compleanno di famiglia. Verificarono il suo abili ed era attendibile. Però in base ai tabulati telefonici di Richard le autorità notarono che Joy aveva fatto diverse chiamate all'uomo mentre stava frequentando la sua ex moglie Daniel. Volendo una seconda possibilità da Daniel, Joy nelle telefonate ribadiva sempre a Richard di lasciare stare Daniel. Però a parte questi screzzi diciamo non c'era alcun motivo per poterlo anche soltanto indagare per la scomparsa della coppia. Sul fronte delle indagini le due famiglie di Richard e Daniel, unite da un'amicizia di oltre 20 anni, stavano collaborando tra di loro. Erano costantemente in contatto e insieme facevano le loro ricerche. Inizialmente le famiglie pensarono che la coppia potesse aver avuto un incidente. Erano sicuri che quella sera avessero attraversato quattro ponti che collegano Philadelphia a New Jersey, quindi dal locale Abilene a casa di Daniel. Ma ecco che diverse settimane dopo la scomparsa della coppia la famiglia di Richard ricevette una segnalazione. Secondo la segnalazione il parapetto di uno dei ponti che avrebbero dovuto attraversare la coppia quella sera era rotto e che sarebbe stato buttato giù da una macchina in corsa. Avvertite immediatamente le autorità mandarono sul posto una squadra di sommozzatori. Perlustrarono per l'intera giornata il fiume Delaware. Ebbene sul fondale del fiume trovarono diverse auto ma non quella di Richard. Perché a questo punto in mancanza di sospetti e di prove si poteva ipotizzare anche a un incidente. Ma dopo dovute ricerche sul fondale del fiume Delaware questa pista fu esclusa. Le autorità iniziarono a indagare ancora più approfonditamente sulla vita della coppia. In particolare nel passato di Richard. Prende sempre più piede l'ipotesi che fosse legato a qualche malaffare. Magari doveva dare dei soldi a qualcuno oppure legato a un traffico di macchine rubate. Questo perché l'anno prima a Philadelphia ci furono molti casi di autovetture rubate. Questo faceva pensare perché non soltanto la coppia era scomparsa ma anche il veicolo. Ma scandagliando a fondo la vita dell'uomo non c'era niente che poteva far pensare che Richard poteva essere implicato in qualche traffico di autorubate. Si indagò anche sul passato di Daniel. In particolare venne ascoltato diverse volte l'ex marito Joy e venne tenuto sempre sotto stretta osservazione. Ma anche qui a parte qualche screzio non c'era niente che poteva far pensare che Joy potesse essere legato alla scomparsa della coppia. Le autorità non trovarono nulla 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 di anomalo. Anche se qualcosa di anomalo c'era perché non è possibile che una coppia sparisca insieme alla propria auto e prende sempre più piede il sospetto che Richard e Daniel fossero stati fatti sparire non soltanto da una persona sola ma da più persone come se fosse tutto organizzato da qualcuno. La loro scomparsa divenne mediatica e molti puntarono il dito sul passato di uno sul passato dell'altro generando anche un taglionetto tra le due famiglie. Sì perché se all'inizio collaboravano molto tra di loro dopo queste accuse si raffreddarono. La famiglia di Richard sosteneva che Richard era un uomo pulito, bravo, un gran lavoratore che non aveva nulla a che fare con la malavita. Anzi puntarono il dito contro Daniel dicendo che magari era lei che aveva un passato burrascoso. Visto il divorzio che doveva affrontare pensavano che l'ex marito Joey potesse centrare qualcosa con la loro scomparsa. Il distacco tra le due famiglie fu imminente e proseguirono le loro ricerche separatamente. Ma ecco che a fine marzo 2005 quindi dopo un mese della scomparsa della coppia John l'ex marito di Daniel ricevette una telefonata. Un uomo gli diceva che Daniel si trovava sotto il White Wheaton Bridge e che stava morendo e di andare lì subito. John non ci pensò due volte e dopo aver contattato le autorità per riferirli che cosa era successo si recò sul posto e si trovava a soli 16 chilometri da casa di Daniel sotto il ponte. Sotto questo ponte c'erano diversi vagoni merci. Lui riferì in seguito sembrava proprio un cimitero di vagoni. Impaurito e con una torcia decise di aprire piano piano i vagoni. Uno ad uno ma non trovò assolutamente nulla. Intanto la polizia non tardò ad arrivare e accompagnarono John in centrale per interrogarlo sulla chiamata che aveva ricevuto. Ma anche per dirgli che aveva rischiato grosso non doveva andare assolutamente lì da solo. Si rivelò comunque un falso allarme. Il detective Roselli a cui venne affidato il caso nonostante non trovò nulla di rilevante nel passato della coppia sosteneva sempre il fatto che Richard e Daniel fossero state vittime di un giro d'affari di auto rubate. Perché lui parve strano che non fu trovata neanche l'auto e se fossero stati implicati in qualche girolosco queste persone avrebbero sequestrato l'auto e l'avrebbero demolita. E quindi è un lavoro questo fatto non soltanto da una persona sola ma da più persone. La famiglia di Richard sosteneva sempre il fatto che nel passato del figlio non c'era alcuna zona d'ombra. Non aveva debiti di gioco, non era implicato in un giro di affari di auto rubate. Anzi sosteneva forse il fatto che bisognava indagare sul passato di Daniel. Ma nel loro passato non emergeva nulla di strano. Le famiglie intanto separatamente continuavano le loro ricerche. La famiglia di Daniel condusse le proprie ricerche vicino a casa della donna. In particolare all'interno di un'area boschiva. Di giorno amici e volontari cercavano, cercavano qualche traccia, qualche indumento, cercavano loro. Anche perché effettivamente non si era mai saputo se loro erano arrivati nel New Jersey oppure no. Si sa solo che appena usciti dal locale hanno preso la loro auto ma poi più nulla. Ma ecco che dopo tre anni ci fu una svolta. Le autorità contattarono l'ispettore Roselli. In quel periodo si stava lavorando su un altro caso e dissero di aver notato sul fondo del fiume Delaware una macchina simile all'auto di Richard. Per l'ispettore Roselli che coordinava le indagini questa poteva essere la vera svolta. Una squadra di sommozzatori perlustrò nuovamente il fiume ed effettivamente trovarono il pick up come quello che possedeva Richard. Ma dopo dovute indagini e dopo aver verificato il numero di telaio venne fuori che quell'auto non apparteneva all'uomo. Si era di nuovo appunto a capo. Il caso però rimase sempre aperto fino a che nel 2008 l'FBI rivolse la sua attenzione a un'altra pista. Secondo loro Richard e Daniel sarebbero state vittime di un omicidio su commissione. Sostenevano che la scomparsa oltre ad essere molto enigmatica sembrava anche troppo pulita. Nel senso che non c'era traccia non soltanto di loro ma neanche del veicolo. Due persone con un veicolo al seguito non possono scomparire così nel nulla. Anche se non indagarono su nessuno rimasero per loro tutti dei potenziali sospettati. Secondo le autorità qualcuno deve aver visto qualcosa e soprattutto deve sapere qualcosa. Non è possibile sparire così nel nulla. A distanza di 18 anni la scomparsa di Richard e Daniel rimane un caso irrisolto, un cold case. C'è da dire che questa vicenda presenta tantissimi punti oscuri. Credo che qualcuno sappia effettivamente cosa sta successo ed è una scomparsa questa di quelle che difficilmente troverà una soluzione. Il caso rimane tuttora aperto. Le famiglie attendono delle risposte e vogliono sapere cosa è successo effettivamente a Richard e Daniel. E voi cosa ne pensate di questa vicenda? Secondo voi può essere stato un omicidio su commissione o c'è dell'altro? Fatemi sapere come sempre anche voi cosa ne pensate nei commenti di questa vicenda. Secondo voi è possibile che due persone scomparino nel nulla con il proprio veicolo senza lasciare alcun tipo di traccia? Io vi invito se il video vi è piaciuto a farmelo sapere con un mi piace e vi invito anche a iscrivervi al mio canale per essere sempre aggiornati sui casi di scomparsa che vengono trattati ogni domenica su questo canale. Noi ci vediamo domenica prossima e io vi auguro una buona settimana. Noi ci vediamo domenica prossima.